Una palazzina da demolire e ricostruire mentre altre 13 restano in attesa di un futuro ancora incerto. Questo è il bilancio che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione USR eredita per il recupero dei 14 immobili Ater dichiarati inagibili e sgomberati a seguito del terremoto del centro Italia. A oltre 8 anni dalle prime scosse queste strutture di edilizia popolare non hanno ancora soluzioni tecniche definitive per la loro riparazione lasciando centinaia di famiglie sfollate. Noi chiaramente viviamo questa novità con una valutazione positiva, ne diamo una valutazione positiva ma dopo 8 anni noi terremotati abbiamo i piedi ben piantati per terra e quindi sappiamo che non è la soluzione dei problemi la totale soluzione dei problemi anche perché il numero degli edifici è piuttosto basso. Mi risulta che la dottoressa Ceci avesse chiesto ne prendessero 20, non c'è stato. Non sarebbe stata nemmeno questa la soluzione ma più si alleggerisce il lavoro dell'Ater e più forse può accelerarsi la ricostruzione. Certo, la positività della nostra valutazione verte anche sulla speranza di avere ora un interlocutore che non si neghi al confronto. Per 8 anni noi abbiamo visto, per quasi la totalità degli 8 anni, noi non abbiamo avuto alcuna interlocuzione con l'Ater che è di una gravità a nostro avviso non giustificabile. A causa delle difficoltà di personale e dell'elevato numero di interventi sul territorio l'Ater sarà supportata dall'ufficio speciale diretto da Vincenzo Rivera per velocizzare le pratiche e avviare i cantieri. Io ho avuto spessissimo incontri con il dottor Rivera e anzi devo dire che in questi oltre 8 anni le mie informazioni, le informazioni che ho avuto sono sempre venute dall'USR e mai dall'Ater quindi non credo ci sia bisogno di, dovrà essere l'USR a coinvolgere noi. C'è un coinvolgimento non solo e non tanto degli inquilini quanto dei proprietari nei condoministi previsto dalle ordinanze quindi credo che, come dire, si atterranno a quanto ordinato.